Ciao ragazzi e bentornati sui Tineri di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo. Io sono il Dottore e quest'oggi vi accompagnerò in un nuovo viaggio e in una nuova avventura. Questa volta, come spesso accade durante il periodo primavera e estate, mi sono recato in un torrente meraviglioso del quale non voglio parlarvi in anticipo, voglio che veniate con me e vi accompagnerò in questo viaggio dove questa volta però per combattere le zanzare che dove c'è l'acqua e i torrenti più mille, educano in questo periodo che fanno male, io mi sono portato questo oggettino qua, questo oggettino qua me l'ha mandato la Flextail, flextail.com, pesa solo 148 grammi, la Flextail si occupa di attrezzatura da campeggio che può essere molto utile sia per i carpisti, che lo so che voi le attrezzature da campeggio ne fate largo uso, sia però questo attrezzino qua per gli spinneristi. Un po' meno forse per chi come me va in trota torrente, ma per chi fa il bus e chi va in paludi e quant'altro, questo vi salva la vita, vi salva veramente la vita. Detto questo però ve ne parlerò meglio durante il video, andiamo a vedere. Grazie a tutti Ragazzi dopo un'avventura abbastanza entusiasmante siamo arrivati con l'auto, mamma mia, due ore e mezzo, lasciamo sta, senza autostrada. Siamo arrivati a Lido di Fanano, sono arrivato a Lido di Fanano, ho parlato col gestore del lago che gestisce anche la riserva, una persona squisita, meravigliosa, simpaticissima, mi ha consigliato di fare il tratto basso di due chilometri, scendendo a piedi, poi risale hanno detto poi arrivi qua, ti fermi, prendi un caffè e mi racconti come è andata la giornata, veramente una persona spettacolare. 15 euro per la pesca, per questo tratto di chilometri, ma sopra ci sono anche dei box da 600 metri di uno circa, che sono box per la pesca a mosca. Se la giornata è come oggi che non ci sono tante persone, i box superiori, invece che uno ne prendi due al prezzo di uno, insomma è molto molto gentile come persona e adesso andiamo in pesca, però prima di raggiungere lo spot, prendo il mio Tiny Repel della Flextail, questo oggettino qua fantastico di cui vi parlavo nell'entro del video, che mi servirà perché già le moschine cominciano a rompere i coglioni. Andiamo! Come vi dicevo, vado a prendere il mio Tiny Repel che attaccherò alle zaino, eccolo qua. Allora, carico e carico, vado a metterci, vado a prendere le ricariche che mi hanno dato i ragazzi della Flextail, eccolo qua, e vado ad aprire. Eccoli qua, sono tipo delle piastrine. Ragazzi, ne vado a inserire due e poi andiamo in pesca. Allora ragazzi, intanto ci andiamo giù. Vi do alcuni punti per quello che riguarda il Tiny Repel. È un oggettivo 3 in 1. Ha 11 ore di autonomia come repellente per le zanzare e addirittura 60 ore come luce da esterna. In più tante altre cose che adesso vado all'ustra. Allora, lo potete utilizzare tra le altre cose anche come una power bank ed è molto leggero perché pesa 148 grammi quell'oggettino lì. È veramente tanta 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 roba. Praticamente la sua tecnologia è simile a quella dei fornellini vape, però più potente. Consente di inserire due schede, le quali due tessere, insomma, che vanno a fare sia una protezione a livello ambientale che per interni. Quindi lo potete utilizzare sia per interni che per esterni. Le particolarità sono che ha 4 livelli di luminosità e tanta roba. Permette di caricare velocemente i vostri dispositivi. Ha una superficie magnetica che vi permette di attaccare lo presente su ogni parte metallica conosciuta sulla faccia della terra. Ma altra cosa molto interessante per i pescatori è che è un water close, cioè resistente all'acqua e alle cadute. È stato per resistere alle cadute. Ragazzi, si scende, eh? Siamo arrivati praticamente alla bocca della zona trofeo, cioè alla fine della zona trofeo, che io non frequenterò quest'oggi. non so perché mi ho chiesto quell'altro, non so io, però va bene. Dai, andiamo nella zona trofeo e divertiamoci. Guarda, di là, immaginavo, dalla parte opposta c'è un bello striscio da batte. Proviamolo. Eccola. Eccola. La prima è arrivata. Eccola qui. Ragazzi, prima trottina arrivata. La slamiamo subito. La, fiamo singolo senza guignone. Ci bagniamo molto bene la mano. Non è fredda l'acqua. Ci bagniamo molto bene la mano. Ed ecco quella qua. Guardate che bellina. Dai, andiamo a arrivare la libertà. Aspetta, eh, se riesco prendo la canna pesca in bocca e vi faccio vedere la scelta acqua ma la vedo dura. Eccola. Ciao. E se ne arriviamo. Ragazzi, che dire, prima cattura arrivata e là c'è una bella cascata che ci aspetta. Andiamo. Eccola. Eccola. Buonasera, ragazzi. Ragazzi, la slamiamo subito. E là. Appoggiamo la rope e ne andiamo subito. lo fa esserci bagnati molto bene le mani. Eccola qua, bimba. Ti diamo la libertà. Dai, bimba. E se ne arriva. Siccome era difficoltoso attraversare dalla cascata, ho preferito tornare un po' indietro e risalire su. in questo modo, perlomeno, si riesce a rischiare meno la vita. Anche perché quando andate in torrente da soli, evitate di rischiare. Perché siete da soli. Se succede qualcosa, lo avete nel Baucigi. Detto questo, come sempre oggi, VXM Riverway, 5, 180, 210 grammi, con abbinato il nostro Kaperlan VXM 500 in taglia 2000. Monofilo del 16 finale del 14 e andiamo a comandare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eccola! Ragazzi, oggi è la trottiglia. Trottiglia! Più o meno tutta la solita taglia. Eccola qui. Là! Ci bagniamo subito. La mano, vi imbacci, e la andiamo a slamare. Slamata! la facciamo vedere a telecamere eccola qua e adesso direttore ciao bene ragazzi tre catture ci stiamo divertendo il posto è bello e dai continuiamo eccola ecco la trottiglia eccola e ci siamo la mattina veloce la e facciamo vedere a telecamere eccola qua guarda che carina gli ridiamo la libertà e se ne arriva dai continua tante belle catture ci stiamo divertendo non c'è ancora niente di taglia però il posto è molto divertente vai c'è ancora niente di taglia Eccola e questa è più grossina e questa è più grossina infatti accendo il guadino perchè non voglio trovarmi alla vella sotto con il guadino acceso eh ragazzi CRK30 un'altra cosa eccola qua ragazzi gran bel nespolo gran bel nespolo aspetta che mi bagno bene la mano che la vada sulla mare CRK30 ragazzi eh ragazzi ha fatto la differenza eh i rotanti nemmeno considerato CRK30 mangiata cattura guardate che bella guardate che bella attenta ciccià guardate là bellissima ragazzi bellissima ora la metto un po' nell'acqua là così riesco a fare la foto ciao bimbaccia ah se ne arriva grande ragazzi grande grande divertimento in quella della riserva dicevo grande divertimento in quel della riserva che si è annebbiata anche la situazione qui speriamo che la foto sia venuta grande divertimento nella riserva dell'altaro di fanano il CRK30 ha staccato una bella trovata una bella fario e il tinerettini tiny repel mi sta salvando veramente vedo le moschee che arrivano e vanno via tanta roba tanta roba grande grande flex tail grazie mille vi ricordo in descrizione codice sconto per l'acquisto di questo oggettino nagrema e tante altre cose che riguardano il mondo del campeggio e della vita outdoor anche per le pescatorie il nostro corso è un po' di più il nostro corso è un po' di più il nostro corso è un po' di più Grazie per la visione 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 Grazie per la visione